Scatta da oggi la nuova stretta anti-covid. Per andare a pagare un bollettino postale o versare un assegno in banca bisognerà avere il green pass anche in formula base, ovvero ottenuto da un tampone. Solo per gli ultra 50 anni terminato il periodo di tolleranza verso chi non si è ancora vaccinato e possono scattare le prime sanzioni da 100 euro. Quella del primo febbraio quindi è un'altra data spartiacqua nella lotta al virus, a fissarla l'ultima normativa anti-covid approvata dal Consiglio dei Ministri a inizio gennaio in piena quarta ondata del virus. Finisce infatti il periodo transitorio concesso dal decreto a chi tra gli over 50 non si è ancora vaccinato.